Buon pomeriggio e ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Riformare non è solo fare una legge, la vera missione è attuarla e implementarla. Il ministro per la pubblica amministrazione Mariana Madia parte da Bari con il suo tour di ascolto delle città metropolitane. Il servizio è di Roberto Maggi. Non è che riformare significa fare una legge, non è che il giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale di una legge la riforma è fatta. Possiamo dirci soddisfatti e la missione è compiuta. La missione inizia perché c'è il processo lungo e faticoso dell'attuazione e dell'implementazione. Abbiamo messo a fuoco le cose che vanno, ce ne sono diverse, le cose che noi dal ministero dobbiamo chiarire. Abbiamo preso impegno di fare circolari applicativi proprio per semplificare la vita a chi negli enti locali deve attuare la riforma della pubblica amministrazione e avevamo pensato al terzo tempo perché dopo la fase della consultazione che è stato il primo tempo con i cittadini per decidere su cosa intervenire nella riforma della pubblica amministrazione e dopo la lunga seconda fase legislativa che è stata quella che ci ha portato a attuare tutti i decreti legislativi pensavamo al terzo tempo come al tempo dell'attuazione. Però mi piace questo suggerimento in più che viene da De Caro il terzo tempo e anche il tempo del lavoro insieme tra tutte le amministrazioni. Un cambiamento epocale per la città di Bari al via da oggi il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti su una porzione di Santo Spirito. Vediamo com'è andata questa prima giornata. I recidivi anche in se in minima parte questa mattina hanno scelto di ignorare l'assenza per strada di cassonetti per la raccolta rifiuti e hanno lasciato per terra nelle postazioni oramai vuote i sacchetti di plastica. Per loro una pattuglia della polizia municipale in giro da questa mattina pronta ad elevare multe. Ma a parte questo dichiara l'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli l'avvio del servizio di raccolta porta a porta nella zona di Santo Spirito è andata meglio del previsto. Toleranza per il momento da parte dell'amministrazione comunale che però invita i residenti del quartiere ad informarsi e a eseguire le istruzioni. Una tra tutte la consegna delle pattumelle la sera prima del ritiro dalle 21 alle 24. Al via da oggi la nuova modalità di raccolta dei rifiuti si parte dall'umido e dal vetro secondo calendario. Domani invece sarà la volta del secco non riciclabile. I cittadini devono capire che le pattumelle non si consegnano la mattina ma si consegnano la sera prima, li si lasciano fuori dal portone la sera prima e quindi faccio anche un appello questa sera dovete lasciare la pattumella dell'indifferenziato fuori dalla vostra abitazione. Intanto negli uffici di Via Fiume prosegue la consegna dei kit per chi ancora non avesse provveduto. Contestualmente sono in distribuzione le pattumelle anche su Palese che sarà interessata dal servizio porta a porta tra poche settimane. Tentato furto al Dipartimento di Elettronica e di Elettrotecnica del Politecnico di Bari. Un cittadino romeno è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza mentre cercava di rubare alcuni computer. Decisivo il sistema di videosorveglianza che ha subito segnalato l'intrusione. Il materiale sottratto è subito tornato a disposizione degli studenti. E anche gli istituti Panetti e Perotti di Bari è andato in scena un duplice furto. La notte scorsa i ladri hanno fatto irruzione nei due edifici portando via un computer portatile e scassinando i distributori automatici di snack e bevande. Le forze dell'ordine stanno esaminando i firmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai colpevoli. Cambiamo argomento. Il Comune decida quale è il futuro per il San Nicola. Il consigliere nazionale Coni, consulente regionale per gli impianti sportivi Elio Sannicandro, dice la sua sulla questione stadio. Sostanzialmente d'accordo con quanto affermato dal presidente del Bari, Cosmo Gian Caspro, dichiara l'amministrazione intraprenda una strada precisa e solo poi si pensi al progetto preliminare. Sentiamo. Mi sembra di capire che l'opzione di breve periodo, insomma abbastanza discutibile, ma sicuramente il Bari ha espresso il disinteresse su questa procedura, per cui una procedura che rischia di andare deserta. Però se il Comune la vuol praticare può decidere di farlo. Non so chi possa essere interessato ad accollarsi un onere così importante, sia di manutenzione straordinaria che ordinare, per cinque anni. L'alternativa è la concessione di lungo periodo. Allora a quel punto il secondo passaggio che deve fare, ma sempre il Consiglio Comunale, cioè nel senso che deve essere la pubblica amministrazione a decidere, deve decidere quale procedura adottare. Quindi può essere una procedura di affidamento diretto, che è anche una procedura plausibile. Ci sono dei precedenti, per esempio la Juventus, la città di Torino, lo stadio lo ha affidato in affidamento diretto, concordando i termini. L'altra possibilità è un affidamento in concessione, quindi un appalto in concessione, che è per esempio la strada che ha seguito l'Udinese. Credo siano 90-99 anni e anche lì attraverso un'evidenza pubblica c'è stato un bando in concessione. Sento parlare di project finance, ma il project è un'altra procedura. Quindi secondo lei il Presidente Gian Caspero, quando dice io non sono un benefattore, prima ditemi che strada intraprendete, poi io pago i progettissi per il priminare, ha ragione. Mi sembra di sì, nel senso che se il Comune non ha le idee chiare su che tipo di bando fare, non è che si può pretendere che la soluzione la trovi il privato, anzi sarebbe anche abbastanza discutibile. E continuiamo a parlare di Stadio San Nicola, lo facciamo in collegamento telefonico con il consigliere di opposizione Fabio Romito. Innanzitutto, bentrovato consigliere. Buongiorno e buon pranzo a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. San Nicola, dicevamo, il Presidente Gian Caspero chiede rassicurazioni al Comune che a sua volta chiede al patron del Bari una integrazione documentale. Abbiamo sentito poco fa il consulente del CONI, Elio San Nicandro, che sostanzialmente dà ragione al Presidente Gian Caspero. Prima l'amministrazione decida quale è il futuro dello Stadio San Nicola e poi si può presentare il progetto preliminare. Lei come la vede? Facciamo un passo indietro. Il Presidente Gian Caspero ha dichiarato di non essere un benefattore. Allo stesso modo, io penso che il Consiglio Comunale non può essere paragonata alla Fatebene Fratelli SRL, perché il Consiglio Comunale di Bari amministra i soldi, i denari di tutti i cittadini baresi, per cui noi dobbiamo avere un sacrosanto rispetto. Quindi, fatta questa premessa, io poi vorrei sottolineare un dato. L'attuale concessione del San Nicola scade il 30 giugno, quindi fra pochissimi giorni l'amministrazione ha la colpevole inerzia rispetto a una vicenda così importante che ci porta a discutere del San Nicola a 15 giorni della scadenza del bando. Personalmente io ho fatto quattro interrogazioni comunali molto tempo fa per chiedere all'assessore Petruzzelli di darsi una mossa e di iniziare ad incontrare la società in maniera più seria e in maniera più concludente, proprio per non arrivare con l'acqua alla vola esattamente come invece siamo arrivati adesso. Adesso però la strada qual è, consigliere? Fatta queste premesse, per quanto mi riguarda, è evidente che la società di calcio voglia avere delle garanzie sull'intenzione del Comune di Bari di dare una concessione e andare verso un'evidenza pubblica a più anni, quindi non a 5, ma è altrettanto evidente che per il Comune di Bari, e io in questo momento parlo da tifoso, prima ancora che da consigliere comunale, è altrettanto importante avere delle garanzie da parte del Presidente Giancaspro, perché uno studio di fattibilità come quello che è stato presentato al Comune di Bari e che prevede introiti per diverse decine di milioni di Euro, senza capire bene, da dove vengano queste decine di milioni di Euro di introiti, evidentemente, a mio giudizio, deve passare anche da una programmazione che sia di carattere sportivo, perché è difficile immaginare 30 milioni di Euro di introiti con una terapia mediocre come quella che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi anni. Grazie, grazie al consigliere comunale di opposizione Fabio Romito, torneremo a parlare di Sanio San Nicolo ovviamente subito dopo il telegiornale nel corso del TV Sport, ma noi andiamo avanti e cambiamo argomento, un appello al Governo, alla Regione Puglia e al Comune di Bari, che si lavora in sinergia per risolvere l'emergenza sfratti. Questa mattina la conferenza stampa del SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale per gli inquilini e gli assegnatari. Vediamo. 6.401 richieste di esecuzione di sfratti in Puglia solo nel 2016, più del 23,24% rispetto all'anno precedente. Di questi, ben 1.644 sono state eseguite con l'intervento dell'ufficiale giudiziario. I dati del 2017 non sono ancora disponibili, ma tanto bassa per parlare di emergenza. Dal SUNIA, il Sindacato Unitario Nazionale, inquilini ed assegnatari, arriva l'allarme. Il Governo faccia subito qualcosa. Non solo non esiste un Piano Casa Nazionale finanziato con risorse costanti, ma si è anche smesso di finanziare il Fondo di Sostegno all'Affitto, ignorando le difficoltà delle famiglie. E solo in Puglia, ad aver partecipato al bando, sono più di 50.000. Ma l'appello è anche per la Regione e per il Comune. Al Presidente Emiliano affinché finanzi, come promesso e con risorse regionali, il Fondo di Sostegno all'Affitto di 15 milioni. All'amministrazione comunale di adeguare invece il Piano Casa ai nuovi fabbisogni. C'è necessità di misure strumentali che siano certe. A livello complessivo, a livello verticale, dallo Stato ai comuni. Allo Stato chiediamo finanziamenti sicuri in edilizia pubblica, chiediamo che il reddito, il canone pagato dagli inquilini venga portato in detrazione, come succede per i muti, come succede per altre situazioni. In questa maniera creando un conflitto di interessi e recuperando anche nero. E siamo alla Sanità. Il Policlinico di Bari inaugura la nuova sede dell'Oncologia ed Ematologia Pediatrica. Tra le novità l'attivazione dal prossimo settembre del percorso per tre pianti di midollo osseo per i piccoli pazienti. Vediamo. Un nuovissimo padiglione su tre piani per seguire ogni anno 350 bambini. Il Policlinico di Bari inaugura la nuova sede dell'Ematologia Pediatrica, un centro che peraltro dal prossimo settembre, attiverà il percorso per i trapianti pediatrici di midollo osseo. Un passo fondamentale se si considera che negli anni precedenti l'89% dei ricoveri per questo tipo di intervento è stato effettuato in mobilità passiva, ossia fuori regione. Un costo per le casse del servizio sanitario regionale, ma soprattutto per le famiglie, costrette a rivoluzionare la propria esistenza per seguire la salute del proprio piccolo. Io continuo a dire, spero di essere ascoltato, che quando si ottiene un risultato il merito non è mai di una persona sola, è il merito di una comunità come quella pugliese della quale io sono orgogliosamente il presidente. Il nuovo centro porterà avanti collateralmente altre attività grazie al filo diretto con le associazioni, che potranno sfruttare le biblioteche, le palestre e le sale gioco presenti nel plesso. A inaugurare ufficialmente la nuova sede è stato proprio il governatore Michele Emiliano, accompagnato dal rettore dell'Università Antonio Uricchio e dal direttore generale del Policlinico Vitangelo Dattoli. Anche il reclutamento del personale informato quotidianamente o perlomeno costantemente il presidente prevede entro il mese il completamento dell'organico dei medici e il perfezionamento del concorso del primario. Quindi tecnologia, organizzazione, risorse umane e logistica coincidono. Siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e infochiocciola.it. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e come sempre vi lascio con le previsioni del tempo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che a livello europeo vedrà una zona di alta pressione consolidarsi sulla parte centrale del continente andando a coinvolgere anche l'Italia. Quindi a parte qualche temporale sulle zone montuose non capiterà nulla di particolare. In effetti la nuvolosità prevista sul Mediterraneo e sull'Italia sarà del tutto scarsa. Qualche annuvolamento che si formerà sia sull'Appennino che sulle Alpi, specie nelle ore centrali del giorno, ma per il resto ben poco da segnalare. Insomma cielo sereno, poco nuvoloso. Precipitazioni anche loro quasi del tutto assenti. Qualche locale acquazione o temporale si formerà nel pomeriggio sulle zone montuose. Dapprima sulle Alpi occidentali in estensione poi piano piano un po' a tutto l'arco alpino. Però fenomeni localizzati, classici temporali estivi, nulla di più. E quindi vediamo in definitiva che giornata sarà con cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud, diciamo qualche breve acquazione solo in montagna e temperature che però attenzione tornano a guadagnare qualche grado. In particolare al nord supereremo decisamente i 30 gradi. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su 3dmeteo.com Grazie a tutti.